E' preso fuoco, non so perché. Devo togliere tutta la roba da solo. E' un mercatino dell'usato? Sì, sì. Dentro c'erano giochi per bambini, soprammobili, libri, capi di vestiario e molto altro. Insomma, tutto quello che si può comunemente trovare all'interno di un mercatino dell'usato. Adesso tutto arzo o annerito a seguito dell'incendio che si è sviluppato all'interno del mercatino gestito dall'Associazione La Cometa in Via Vittorio Veneto alle porte del Centro Storico Aretino. Quando siamo arrivati qui c'era fumo e fiamme e abbiamo immediatamente rotto la porta per poter... ci siamo preoccupati dapprima di evacuare le persone che abitano qui sopra. Abbiamo fatto evacuare le persone sopra degli appartamenti e poi ci siamo diretti con due squadre a spengere l'incendio. È bruciato questa parte qui iniziale all'ingresso del negozio mentre tutto il resto del materiale è annerito. Si è fuso tutti l'impianto elettrico, quindi il locale è completamente inagibile. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi e all'interno del locale fortunatamente non si trovava nessuno. Il rogo si è propagato velocemente, alimentato dalla grande quantità di materiale che si trovava nel mercatino. Attualmente le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Dobbiamo ancora mettere insieme vari tasselli e nelle ore successive ci faremo un'idea di come è avvenuto l'incendio.